un minuto con padre pio dei luoghi del convento di san giovanni rotondo ci troviamo all'interno del giardino dei frati proprio accanto all'orto del convento ecco in questi lunghi viali chissà quante volte padre pio ha avuto modo di passeggiare di ritagliarsi dei momenti di preghiera o di conversazione con i suoi figli spirituali ed anche con i suoi confratelli oggi vogliamo raccontarvi la storia di un uomo che è venuto qui a san giovanni rotondo ed è stato in un certo senso guidato dal suo profumo ecco questo segno che a volte arriva nel momento in cui padre pio conforta qualcuno e lo abbiamo constatato con tante storie con tante testimonianze lo abbiamo constatato anche con voi che scrivete a questo indirizzo di posta elettronica le vostre storie giuseppe giuseppe era un conservatore delle imposte nel 1942 prestava servizio all'ufficio finanziario di rieti poi venne trasferito qui in provincia di foggia ateo in gioventù si era accostato in religione quando stava per sposarsi per quell'occasione si era confessato aveva fatto la prima comunione aveva ricevuto anche la cresima poi cominciò un periodo di vita cristiana all'acqua di rose racconta don pasquale cateneo nel suo libro mentre però stava nel suo nella sua cittadina dove si era trasferito lucera senti parlare di padre pio quindi delle meraviglie che operava in tante persone e qui a san giovanni rotondo così nacque questo desiderio di volerlo incontrare di volerlo vedere di volersi confessare approfittando di un'occasione aprile 1943 si reca san giovanni rotondo chiesetta del convento dei frati minori cappuccini e la visita in quel momento di padre pio da pietrecina l'ascolto della sua messa cominciarono così a smuovere qualcosa nel suo spirito quindi volle andarsi a confessare da lui padre pio quando se lo vede dinanzi gli fece una domanda alla quale però giuseppe non seppe rispondere allora gli disse di andare in chiesa e di aspettare là finché non lo avesse chiamato don pasquale non ci racconta che tipo di domanda fece a giuseppe padre pio però racconta che ci vuole del tempo passarono molte ore prima che padre pio lo chiamasse e lui era tanto impaziente che quasi quasi stava andando via finalmente lo cammò cominciò la confessione durante la quale padre pio gli tenne stretta la mano nella sua ecco per tutto il tempo della confessione conclusa la confessione giuseppe si accorse subito che quella mano che aveva tenuto stretto di padre pio emanava questo profumo un delizioso profumo e questo fenomeno durò per lo spazio di due mesi nel frattempo poi ebbe l'occasione di tornare da padre pio consultarlo se chiedere o no di trasferimenti di ufficio sentito da lui che poteva farlo ma sarebbe andato incontro a molte difficoltà iniziò la ricerca notò che in tutti questi spostamenti il profumo di padre pio era sempre localizzato nella sua mano destra lo accompagnava dovunque alla fine ottenne quello che desiderava e finì per stabilirsi a palermo 1944 18 dicembre si reca di nuovo da padre pio con tutta la sua famiglia sia per ringraziarlo e soprattutto per confessarsi da lui la prima ad andare al confessionale fu la figlia alla quale pur non avendola mai vista padre pio rivolse questa domanda e ora è contento papà poi fratellino che pure non aveva mai visto e al quale disse cosa sei venuto a fare tu sei già in grazia di dio vattene e continua sempre così